Centro Revisione Carrozzeria Fratelli Faraci. Vieni a trovarci nelle nostre sedi equipaggiate di attrezzature all'avanguardia per tutelare il tuo veicolo e garantire la tua sicurezza stradale con impianto frenante a piattaforma di ultimissima generazione. Offriamo un servizio di riparazione interna ed esterna per ogni tipo di veicolo. Interventi strutturali o superficiali, grandi e piccole ammaccature, graffi e altri inconvenienti alla carrozzeria del tuo veicolo necessitano di un intervento mirato a cura di un personale altamente qualificato con risultati impeccabili. Fari ingialliti? Non preoccuparti! Siamo specializzati anche nella rigenerazione fari donandogli splendore e brillantezza con prodotti innovativi. Ci trovi a San Cataldo, nella nostra sede principale in Contrada Babba Urra, alle spalle della Chiesa Santa Maria di Nazareth e nella nostra succursale in Via Garibaldi. Centro Revisione Carrozzeria Fratelli Faraci. Vi augura buone feste! Centro Revisione Carrozzeria Fratelli Faraci